Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi vi voglio consigliare 10 libri perfetti per l'estate perché l'ambientazione di questi libri è il mare, ma soprattutto sono tutte storie per lo più ambientate su navi o barche, quindi proprio in mare aperto. Ho deciso di fare questo video in alternativa ai 10 libri che vi consiglio da leggere in estate perché l'ho fatto già l'anno scorso e secondo me i consigli dell'anno scorso continuano ad essere molto validi per cui vi rimando a quel video se state cercando libri leggerini da sotto l'ombrellone, storie estive di questo tipo mentre rimanete qui se siete interessati a scoprire qualche libro diverso però sempre ambientato appunto in mare quindi in generale parliamo di storie soprattutto d'avventura che portano in luoghi sperduti, lontani in cui si parla molto di equipaggio, magari ci sono anche delle storie che hanno a che fare con i pirati non tutti i libri che vi consiglierò sono dei romanzi contemporanei ma c'è anche qualche classico e tra questi titoli spero che voi riusciate a trovare la vostra prossima nuova lettura. Detto questo inizio subito, vi ricordo di lasciare un like di sostegno se vi piacciono i miei consigli di lettura ed iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati su questi e scoprire qualche libro nuovo. Io inizio subito, mi soffermo davvero pochissimo su ogni libro, voglio giusto darvi le informazioni principali che vi possono aiutare a capire se fa il caso vostro, non fa il caso vostro quindi insomma sarà una chiacchierata molto veloce. Il primo libro che vi voglio consigliare è un libro non così tanto conosciuto che io ho letto durante la mia adolescenza ed è Il viaggio della strega bambina. Questo libro è un libro che parla della traversata in mare dall'Inghilterra all'America in quanto la protagonista è una giovane ragazza che è imparentata con quella che nel villaggio viene reputata la strega e quindi per questa ragione lei vuole mettersi in salvo andando alla ricerca di un nuovo mondo in cui vivere. Il libro è ambientato principalmente in nave dove tra l'altro si sviluppa, se non ricordo male, anche una bellissima storia d'amore. A me è piaciuto tanto il mood proprio di questa storia perché in generale mi piacciono proprio quei libri che raccontano la vita in queste navi, in queste imbarcazioni con tutto l'equipaggio, con le varie cabine. Mi piace davvero tanto quel tipo di storia e tra i libri che vi consiglierò dopo ce ne sono diversi del genere e in particolare questo è ambientato nel Seicento, quindi nel periodo inglese puritano e ovviamente la storia parla anche di emancipazione in quanto questa giovane ragazza dovrà essere capace di arrangiarsi e di costruirsi una nuova vita. Il prossimo libro invece è un libro un po' più macabro, inquietante, tetro in quanto si tratta di avventure di Gordon Pym a volte ricordato anche come storia di Gordon Pym comunque il libro è di Edgar Allan Poe e si tratta di una storia sempre ambientata in una nave, in mare aperto però in questo caso si tratta di una storia di terrore, una storia di paura in quanto in questa nave ci sono oscure presenze poi ci saranno delle battaglie, tempeste, oscuri, presagi che provengono dal sottofondo marino quindi strane creature che iniziano un po' a disturbare la vita appunto su questa nave e in più poi ci saranno anche tantissimi terrori psicologici mi verrebbe da definirli così quindi nelle storie di Edgar Allan Poe come nella maggior parte dei libri di paura è un terrore che cerca di insinuarsi a livello psicologico nella mente dei protagonisti in questo caso il protagonista è appunto questo Gordon Pym e il libro poi avrà dei risvolti estremamente inquietanti in questo caso la storia ambientata nel 1800 un altro libro ambientato nel 1800 ed è famosissimo ragazzi che ve lo dico a fare, lo conosciamo tutti è Moby Dick Moby Dick è la storia del capitano Aqab della balena bianca di questo miraggio che diventa il motivo di vita per questo capitano che la cercherà in tutti i laghi, in tutti i mari, in tutti i luoghi, ovunque perché ha un conto in sospeso appunto con questa balena è una storia che conosciamo tutti un grande classico quello che in pochi sanno però è che si tratta di un libro che a tratti è un romanzo perché appunto c'è la storia del capitano Aqab ma a tratti diventa quasi un saggio un reportage in quanto all'interno ci sono tantissimi capitoli dedicati a illustrare degli aspetti estremamente specifici della vita in mare come ad esempio c'è un capitolo interamente dedicato a tutto il sartiamo e tutte le varie funi, tutti i tendaggi che ci sono in una nave come la nave funziona oppure c'è un capitolo interamente dedicato a tutte le specie di balene tutti i cetacei e quindi questi vengono elencati, vengono suddivisi, vengono spiegati diventa a tratti quasi questo libro un trattato scientifico ed è secondo me uno di quei libri che al tempo era bello avere in casa appunto perché era sia una bella storia ma anche un libro interessante dal quale si potevano cogliere davvero tante nozioni che magari al tempo erano sconosciute almeno per chi non navigava il mare almeno per chi non aveva a che fare appunto con tutto questo contesto quindi mi viene in mente la casalinga in campagna riceveva per Natale Moby Dick adesso sto dicendo ovviamente una cavolata ma immaginatevelo e si leggeva di queste cose che altrimenti non avrebbe mai scoperto non avrebbe mai conosciuto è un libro quindi molto lento a volte ma è estremamente interessante poi andiamo avanti con un altro classico e poi passo anche a libri un po' più contemporanei non preoccupatevi che è Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway in questo libro si parla della storia di questo pescatore che è ormai anziano e non ha molta fortuna con la pesca infatti da più di 80 giorni mi sembra non riesce a pescare niente però lui non demorde quindi parte di nuovo alla volta del mare con la sua barchetta e incontra quello che è un merlin un pesce gigante che lui decide di voler assolutamente pescare qui parte una storia che è quasi una metafora della vita quindi cercare di raggiungere un obiettivo e farlo con tutto il proprio spirito fino ad arrivare poi a uno sviluppo che è sempre più interessante a mio parere non vi racconto tutto il libro perché è molto breve quindi vi lascio la lettura comunque secondo me questo ecco è uno di quei classici che almeno una volta nella vita si deve leggere Moby Dick vi dico possiamo anche non leggerlo stiamo bene lo stesso ma Il Vecchio e il Mare secondo me è talmente breve talmente intenso talmente comprensibile come libro che secondo me dargli una possibilità a leggere almeno una volta ci sta cioè ci sta non dico che bisogna farlo perché ci sono altre cose nella vita che bisogna fare ma secondo me leggete Il Vecchio e il Mare di Ernest Hemingway ecco allora poi passiamo a un romanzo un po' più contemporaneo e anche un po' più esilarante ironico, sarcastico e spigliato che è una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace se fino adesso abbiamo parlato di navi, imbarcazioni, con marinai qui adesso siamo invece su una crociera una crociera di quelle proprio turistiche all'ennesima potenza dove le persone vanno per divertirsi e proprio in questo contesto David Foster Wallace si ritrova a dover scrivere un reportage giornalistico infatti l'articolo che lui deve scrivere è stato commissionato da Harper Bazaar se non sbaglio comunque da una rivista che gli dice ok tu vai lì sulla crociera e poi raccontaci come ti è sembrata David Foster Wallace però non riesce a farlo diciamo in modo indistaccato in quanto lui odia profondamente le crociere e non si priva del piacere di dircelo non si priva del piacere di dirci che lui quei posti li detesta infatti anche il titolo del libro una cosa divertente che non farò mai più ci lascia presagire che insomma lui ha un po' questo tono no? da l'ho fatto ma non lo rifarò perché insomma non è proprio il massimo della vita ed è un libro che fa super ridere ci sono proprio delle scene iconiche tipo lui che gioca a ping pong oppure quando gioca a scacchi con questo non mi ricordo se è un ragazzino o una ragazzina e la competizione che c'è in queste gare che ci si ritrova a fare sulle crociere non mi sembra questione di vita o di morte vincere questi tornei queste cose e lui racconta tutte queste esperienze che fa sempre con questo suo tono appunto esilarante ironico un po' canzonatorio che a me fa impazzire cioè nel senso impazzire di senso positivo dopodiché ci troviamo sempre su una nave in questo racconto molto molto breve che è quello di Baricco 900 non potevo esimermi dal consigliare anche questo libro che è estremamente breve questo si legge davvero in un'ora è un monologo a tutti gli effetti in cui si racconta della storia di 900 che è questo pianista se non sbaglio che vive tutta la sua intera esistenza su questa nave che è sempre una nave per il pubblico non so come si dice cioè non è una nave come quella di prima con i marinai mercantili che viaggiano dall'America all'Inghilterra è proprio a tutti gli effetti sì viaggia sempre questa nave mi sembra dall'America all'Inghilterra o comunque dall'America all'Europa però si tratta di una nave a tutti gli effetti per passeggeri e lui fa il pianista su questa nave e in questa storia si racconta la sua vita un romanzo molto breve molto piacevole secondo me è perfetto se avete proprio bisogno di quel libretto leggero da portarvi in borsa e leggermi durante una giornata in spiaggia dopodiché torno indietro nel tempo per parlarvi di 20.000 leghi sotto i mari in questo caso la nave di cui stiamo parlando non è una vera e propria nave ma è il Nautilus un sottomarino uno dei primi sottomarini della storia secondo appunto Jules Verne che scrive questo racconto che al tempo era così di fantascienza nel senso che in quel periodo ancora non si era arrivati a tutte le innovazioni tecnologiche che ci sono adesso giustamente il periodo di cui sto parlando è la seconda metà del 1800 quindi la seconda metà dell'800 e Jules Verne si cerca di immaginare come potrebbe funzionare un sottomarino come potrebbero funzionare tante cose l'acqua all'interno di questa struttura come si potrebbe immaginare appunto la navigazione con questo sottomarino e dà alla luce uno dei personaggi più iconici di sempre che è il capitano Nemo questa è una serie davvero molto avventurosa uno di quei libri d'avventura che secondo me è bello leggere proprio quando si sta cercando una storia estremamente coinvolgente che porti in posti sconosciuti ci sono delle bellissime scene in cui loro diventano i personaggi di questo libro dei palombari si dice così e praticamente con questa loro tutona vanno sotto la superficie marina vanno nelle profondità del mare e iniziano a osservare che cosa gli passa intorno tutti i vari pesci, le cose è un libro che racconta a tutti gli effetti un viaggio e quindi anche questo volevo inserirlo sempre un altro classico e invece di nuovo un romanzo contemporaneo è Avviso ai naviganti di Annie Prux parto col dire che questo libro non mi aveva fatto impazzire però l'ho letto perché oltre ad essermi stato consigliato ha vinto diversi premi come il Pulitzer e il National Book Award per cui ho detto deve essere una bella storia non mi ha convinto tanto però secondo me se questo libro incontra la persona giusta può piacere molto in quanto si parla di questo uomo di mezza età che si chiama Quoyle che vive a Brooklyn dopo tutta una serie di vicissitudini si ritrova a volersi trasferire in Canada in particolare sull'isola di Terranova che è quest'isola sperduta tipo ai confini del mondo dove nevica sempre c'è sempre la neve tutto l'anno e lui si trasferisce insieme alle sue figlie lì andrà a abitare in questa catapecchia poi c'è tutta questa descrizione di questa casa in un luogo che è tipo una scogliera isolata completamente sembra proprio la punta del mondo questo posto e lì ci saranno tutte delle strane vicissitudini che coinvolgeranno questa piccola cittadina è un libro in cui il mare è presente quasi sempre proprio perché è il contorno di questa abitazione ma anche perché ci sono diverse scene in cui i personaggi prendono delle piccole imbarcazioni per attraversare quest'isola andare in diversi posti in più la cosa bella è che ogni capitolo è descritto come se fosse un nodo ora io purtroppo non ho il libro com'è in questo momento quindi non riesco a mostrarvelo però proprio all'inizio di ogni capitolo c'è l'immagine, l'illustrazione di un nodo il nome di quel nodo e partendo da quello poi si sviluppa la trama per quel capitolo quindi è molto bello vedere come la storia poi segue quelli che sono degli intrecci che solitamente vengono usati durante la navigazione in più anche il titolo Avviso i naviganti funge quasi da monito nel senso io avviso quelli che sono i naviganti in questo caso i naviganti sono gli esseri viventi tipo avviso quelli che stanno per vivere la propria vita che potrebbero succedere delle cose non tanto piacevoli infatti il libro è un po' triste io ve lo dico dopodiché ho altri due libri di cui parlarvi che sono tra le letture più recenti che ho fatto innanzitutto parto con Vita di P di Ian Martel che è questo libro in cui si racconta una storia realmente accaduta ora alcuni dicono che non è vero che sia una storia realmente accaduta nel prologo del libro viene scritto dall'autore che è una storia realmente accaduta quindi io mi fido dell'autore online purtroppo non ho trovato niente comunque alcuni di voi mi hanno detto non è vero che è una storia realmente accaduta in teoria si ed è la storia di questo giovane ragazzo che dall'India si deve trasferire insieme alla sua famiglia in America in particolare la sua famiglia era la proprietaria di uno zoo per cui devono fare questa traversata con questa nave piena zeppa di animali estremamente esotici come tigri, elefanti, cose di questo tipo una tempesta, non una tempesta, li colpisce un incendio colpisce la nave per cui ci sarà a tutti gli effetti quello che è un naufragio e questo giovane ragazzo si ritrova da solo su una scialuppa con altri animali come ad esempio una scimmia, una iena e una tigre succederanno diverse cose perché la verità è che questo ragazzo rimarrà in mare per più di sei mesi e quindi in questo libro si racconta tutto ciò che accade in questi sei mesi lo si fa in prima persona quindi l'autore si mette nei panni di questo ragazzo ma non è lui il ragazzo perché il ragazzo è un altro semplicemente l'autore l'ha incontrato si è fatto raccontare tutta la storia e poi ha deciso di metterla nero su bianco come se fosse un romanzo quindi è tutto comunque ben romanzato è un libro che a me è piaciuto tanto perché si parla anche qua molto di tutta quella che è la vita animale il fatto che questo giovane sia stato per tanto tempo a contatto con gli animali in uno zoo rende il modo in cui parla degli animali estremamente interessante secondo me le loro abitudini, i loro rituali, tutte queste cose qui in più anche il racconto della sopravvivenza mi è piaciuto tanto è uno di quei romanzi estremamente avventurosi che ti lasciano anche un po' con il fiato sospeso fino alla fine perché non sai che cosa accadrà sì c'è anche un bellissimo film che poi è quello che mi ha spinto a leggere questo libro perché a me il film era piaciuto molto dopodiché ultimo libro di cui vi voglio parlare è anche l'unico libro che ho in cartaceo perché gli altri purtroppo non ve li ho potuti mostrare è Il diavolo e l'acqua scura di Stuart Tarton questo autore a me piace molto ma il libro in sé per sé questo non mi ha particolarmente affascinata avrò modo sicuramente di parlarne più nel dettaglio nel wrap up del mese in cui di solito mi siedo e racconto tutte le letture in modo abbastanza approfondito qui mi limiterò a darvi quelli che sono i principali motivi per cui potrebbe piacervi allora è una storia che cerca di intersecare quella che è l'indagine di un assassino sospetto con quello che è un viaggio in nave in questo caso siamo nel 1600 mi sembra sempre e quindi anche tutto il contesto è quello quindi c'è una nave bella in legno gigante tra l'altro c'è anche all'inizio proprio la mappa di com'è la nave come sono disposte le cabine chi sono i personaggi perché è uno di quei libri all'agata Cristi in cui ci sono tanti tanti personaggi per cui bisogna avere un po' un attimo l'attenzione di capire chi è chi e di seguire la storia bene e con grande attenzione la vibe generale è un po' quella alla Pirati dei Caraibi perché questo Il Diavolo e l'Acqua Scura deriva dal fatto che ci sono tantissime presenze all'interno del libro che sembrano essere quasi delle presenze mistiche quindi non so se avete presente in Pirati dei Caraibi che ci sono tipo c'è la nave fantasma sembrerebbe che anche in questo libro ci sia una nave fantasma poi ovviamente la trama si sviluppa e in generale noi ci dovremmo affezionare i personaggi dico ci dovremmo perché io personalmente non sono riuscita e dovremmo cercare di essere sempre più incuriositi dalla risoluzione finale di questo grande mistero da questo misterioso come dicevo assassino e tutto il resto la verità è che secondo me il libro si perde tantissimo si perde molto e si vengono ripetute mille volte le stesse cose non si riesce a seguire bene ci sono troppi personaggi sono tutti un po' buttati lì non ho trovato il libro all'altezza del precedente libro scritto dall'autore e personalmente mi ha un po' delusa ma questa ovviamente è la mia opinione personale se invece qualcuno di voi vuole effettivamente una storia così cioè una storia altamente misteriosa ambientata in una nave ben venga aggiungo anche che a livello storico è lo stesso autore che dice di non aver seguito molto bene quelle che sono le norme di una nave in quel periodo nel senso che lui ha portato tantissime modifiche alla vita marinaresca e lui stesso dice questo non è un romanzo su dei marinai perché mi sono un po' allontanato da quella che è la veridicità storica quindi è proprio un romanzo a tutti gli effetti immaginatevi un po' il lavoro che fa Ken Follett cioè si prende quell'immaginario là ma poi decide lui un po' di insomma rigirare come preferisce lui anche le varie relazioni sociali quindi questo insomma bene il video finisce qui io spero di avervi consigliato almeno un libro che possa incontrare i vostri gusti fatemelo sapere nei commenti e soprattutto aggiungetene altri se ne conoscete di libri ambientati in queste imbarcazioni, navi, pirati perché a me piace un sacco leggere di questo mondo non so perché ma mi attira tantissimo non lo farei mai nella vita vera cioè non prenderei mai una nave di legno che tipo sai quando parti ma non sai una nave di legno che sai quando parti non sai quando arrivi su questi marinai che ti lasciano mesi e mesi e mesi in balia della natura io non lo farei mai però mi piace leggere di chi lo fa mi piace leggere di chi lo fa perché giustamente la lettura può fare questo cioè può portarti in luoghi che tu da solo non vorresti vivere non vorresti visitare non vorresti esserci in quei momenti però leggere di un naufragio nella comodità del tuo divano vi dirò non è neanche male quindi fatemi sapere se avete anche voi dei consigli da darmi noi ci vediamo al prossimo video ciao